Dunque, le faccio un riassuntino. Mi ha offerto un whisky, le ho proposto di dormire da me e abbiamo fatto l'amore. Scusi, ma ha fatto un video? E mi spiega come mai ha addosso quel ridicolo travestimento? Io sono Bretton e mia nonna ha inventato la crepe con la salsiccia. Cavolo, che cornamusa! Eh, già. Che ha fatto un video porno? Deve cancellarlo immediatamente. E con cosa la ricatto se lo cancello? A fugo nei debiti. Gli acquisti online mi hanno rovinato. Ho chiesto un prestito persino per seppellire mia moglie. Sì, pronto. Che vorrebbe vendermi? Sa che ha una bella voce? Se dovessi indovinare, direi Isole Mauritius. La voce è lo specchio dell'anima. Miranda, secondo me sei una sporcacciona. Anzi, sai che mi stai eccitando? Papà. Se fossi... Papà. La saluto, ingegnere. Io faccio l'autista e mi serve il suo aiuto. Sull'app valutazione clienti ho una stella, una, ne voglio molte, molte di più perché... Ok. Ma lei lavora solo solo? No, no, noi tanti, tanti. Questa tecnologia ci sta fregando la vita. E' pazza. Ho avuto il contatto di un hacker. Si chiama Dio e sta in una turbina eolica. A sapere quale. I vostri video sono finiti all'inferno, cioè in un data center impenetrabile. Lo penetriamo noi! No? No, scusi. Non puoi andare. La mia vagina è dentro un flanto. La rivolgo! Ridetemi la mia vagina, strancio! Amiche mie, non vi ho mai sentito così vicine. Silvana, sono la mamma. Non cercarmi su internet per mezz'ora. Qualunque cosa accada. Poi ti spiego. Sto tornando a casa. Sto tornando a casa.